Siamo all'interrogazione numero 3, 3028, dei deputati, Sarti ed altri concernenti elementi ed iniziative di competenza in merito alla gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, con particolare riferimento a quelli di Isola Capo Rizzuto, anche nella spiccata ottica della chiusura di tali strutture. E dunque la deputata Maria Lucia Lorefici ha la facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confermataria. Prego. Dopo Mafia Capitale e Mineo, ecco una nuova inchiesta. Stavolta coinvolge l'ex cara dell'isola di Capo Rizzuto, inchiesta che ha portato dall'arresto di 68 persone, tra cui Leonardo Sacco, presidente della Confraternita delle Misericordie, che dal 99 ha il monopolio nella gestione dell'accoglienza dei migranti sull'isola, il parroco di Isola e poi affiliati del gran d'Indrangheta degli Arena. La COSCA controllava a fine di lucro la gestione del centro d'accoglienza, ma l'affare di stampo mafioso sulla pelle dei migranti. Voglio ricordare che l'europarlamentare, la collega Laura Ferrara, aveva presentato un esposto e chiesto accesso agli atti proprio in merito a quel centro. La richiesta è rimasta disattesa. E ancora, che ha udito in Commissione Migranti nel luglio 2015, Leonardo Sacco dichiarava che, leggo, su numeri piccoli non si spalmano i costi, è anche una questione economica. Per quanto riguarda il centro grande, invece, l'economia di scala si possono fare in tutti i modi. Parole che manifestano apertamente interessi economici. Pertanto, chiediamo al Governo quali iniziative urgenti intende attuare per garantire controlli e monitoraggi approfonditi e accertare eventuali responsabilità di chi doveva controllare e non l'ha fatto. Grazie. Grazie. Ministro Miniti ha facoltà di rispondere. Signora Presidente, onorevoli deputati, l'interrogazione dell'onorevole Sarti concede le vicende e le invitazioni mafiose nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Poiché anche le due successive vertono sullo stesso tema, vorrei innanzitutto scusarmi con voi e con gli altri colleghi se sarò costretta a ripetermi in qualche passaggio. Desidero innanzitutto esprimere l'apprezzamento mio personale del Governo alla Procura della Repubblica di Catanzaro e alle forze di polizia che hanno portato allo smantellamento della storica e potente cosca di Andrangheta facente capo alla famiglia Arena, da decenni al centro di articolati traffici delittuosi nelle province di Catanzaro e Crotone. Le indagini condotte hanno consentito tra l'altro di spezzare i collegamenti dell'Andrangheta nella gestione dei centri d'accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Ritengo inaccettabile che la scoglienza possa diventare terreno per attività mafiose e o corruttive. Su questo saremo fermissimi, secondo il principio che un grande Paese gestisce l'accoglienza rispettando i diritti umani e agendo con la massima trasparenza. In questo senso voglio informarvi innanzitutto che ho disposto l'immediato avvio di un'ispezione presso la Prefettura di Crotone per le necessarie verifiche in via amministrativa. A tal fine è stato costituito un apposito nucleo ispettivo coordinato dal Prefetto di Catanzaro che dovrà concludere i lavori entro 30 giorni, relazionandomi sull'esito degli accertamenti effettuati. Proprio per rafforzare la capacità di sistema di emozoraggio, nell'ambito di uno specifico progetto denominato Mireco, è stato recentemente istituito presso il Viminale un osservatorio permanente che, avvalendosi di personale altamente specializzato, riferirà gli esiti delle verifiche effettuate sulle strutture di accoglienza presenti nel territorio nazionale. Il Piano dei Controlli, che prevede 2.130 ispezioni nei centri di accoglienza, è già partito all'inizio di questo mese. Nello scorso mese di marzo è stato da me predisposto un nuovo capitolato generale per le gare di appalto, definito insieme all'ANAC. Tra i punti qualificanti del documento segnalo il superamento della figura del gestore unico e l'introduzione della divisione dei servizi in lotti al fine di favorire la concorrenza e la partecipazione delle piccole e medie imprese. La tracciabilità dei servizi erogati è un maggiore attenzione all'elemento qualitativo dell'offerta e soprattutto il potenziamento delle attività di monitoraggio e controllo da parte dell'amministrazione dell'interno. Ho già impartito direttiva alle prefetture per dare concreta attuazione ai principi del contratto tipo. Infine, la nuova governance del sistema di accoglienza diffusa che il Ministero dell'Interno sta portando avanti con particolare impegno negli ultimi mesi ha anche l'obiettivo di superare l'esperienza delle grandi strutture, come quella di Isola Capo Rissuta e Mineo, alle cui problematicità gli onorevoli interroganti hanno fatto cenno. Si tratta di un impegno complesso che richiede la collaborazione soprattutto delle istituzioni locali con le quali, peraltro, si stanno intensificando modelli di efficace partnership. Grazie. Ritengono accettabile che l'accoglienza dei migranti diventi un business? Esigo trasparenza. È stata avviata un'ispezione a Crotone sul caso. I qui esiti si avranno tra 30 giorni. Le mafie lucrino sul business degli immigrati, ma queste non sono situazioni nuove. È dal 2006 che questo sistema andava avanti ai Isola di Capo Rissuto. È dal 2010 che si sapeva che Leonardo Sacco aveva fatto da padrino al battesimo di uno dei figli di un affiliato del clan Arena. Quindi ci sorprende, sinceramente, vedere che oggi ci si sbraccia per cercare nuove soluzioni, quando in realtà la prima cosa da fare ovviamente è escludere la confraternità delle misericordie da tutta la gestione del business dell'accoglienza, perché non c'è soltanto il centro Isola Capo Rissuto. E soprattutto qui non ci sono stati controlli. La prefettura, per cui lei ha avviato un'ispezione, ma anche lo stesso Ministero non ha fatto nulla. Perché se nel 2014 un euro parlamentare fa un esposto in cui chiede al Ministero dei dati per avere chiarezza, per avere trasparenza sull'ente gestore, sui suoi bilanci, e non arriva nessuna risposta nel giro di tre anni, non è che possiamo poi aspettare sempre la magistratura, che arrivi Gratteri, la procura di Catanzaro o le forze dell'ordine per far emergere altri scandali. Allora noi ci chiediamo, abbiamo avuto Mineo, abbiamo avuto Mafia Capitale, abbiamo avuto adesso questa grossissima operazione. Quanti scandali devono ancora succedere prima che le cose cambino? Ci dispiace, ma qui bisogna avere il pugno duro, non soltanto nei confronti delle mafie. Perché questo è un sistema di connivenze, è un sistema che è andato avanti grazie a chi sta intorno alla criminalità organizzata. E quindi è per questo, Ministro, che oltre a ricordare purtroppo lo scandalo che qui c'è stato con il cibo che non bastava per tutti, spesso era quello che solitamente si dà ai maiali, questo era quello che succedeva ad Isola di Caporizzuto, per evitare che tutto questo continui ad accadere. Anche all'interno del Ministero si dovrebbero avviare delle ispezioni e punire chi in tutti questi anni non ha efficacemente controllato. E soprattutto anche nei confronti dell'ex Ministro Alfano all'interno, che oggi ancora ci teniamo al Ministero degli Esteri, forse sarebbe il caso di prendere dei provvedimenti perché con i disastri che ha combinato dovrebbe stare distante anni luce dalla vita pubblica.